Tira fuori l'artiglieria pesante e si gioca il tutto per tutto la difesa di Oscar Pistorius. L'ex atleta sudafricano, accusato dell'omicidio della fidanzata Reva Steenkamp, ha cercato di far leva sulla pietà della giuria per evitare 15 anni di reclusione a cui potrebbe essere condannato. Questo per contrastare la prima deposizione in aula del padre della donna che ha ceduto alla commozione e al pianto, aggiungendo che un giorno parlerà a quattro occhi con Pistorius, ma che l'eventuale perdono personale non lo assolve dalla sua colpa né lo esenta dalla pena. Nella sentenza di primo grado, nel 2014, che spaccò l'opinione pubblica, la giudice monocratica condannò l'atleta a 5 anni, ma lui ne ha scontato uno solo per omicidio colposo. Il fatto venne derubricato a eccesso di legittima difesa. Nel processo d'appello, però, le cose sono cambiate. Nel processo d'appello, però, le cose sono cambiate.